Ciao a tutti! Cos'è questa? Questa è la fantomatica bolla d'aria. Si crea qualche volta quando si applica la pellicola in modo frettoloso e rimuoverla non è difficile. Basta avere una punta affilata, come ad esempio quella di questo cutter che state vedendo, esattamente. Basta forare al centro la bolla d'aria in modo che l'aria possa appunto fuoriuscire ed aiutarsi con la spatolina in questo modo da un lato e dall'altro finché l'aria appunto in eccesso non esca completamente. In qualche caso è necessario sentire proprio con la mano dove si formano queste eventuali bolle e procedere appunto come già indicato anche prima spostando l'aria in un unico punto con il cutter ma anche con uno spillo semplicissimo si fora quello che è il centro della bolla e poi la si rimuove. Voilà! Ciao alla prossima!